ciao sono per dimostrare le mie creazioni in mese di maggio spero che piaceranno comunque tutto link del tutorial verrà scritto sotto questa video creazione così potete realizzare anche voi e niente inizierei vi mostrare i miei orecchini a risa la forma quadrato e come decorazione utilizzata la rocca aless 11 0 su vedere anche da dietro sono veramente comunque a me piace molto un po scuretto per estate però dopo estate viene anche inverno diciamo poi secondo può anche utilizzare anche estate dai vi mostro le seconda colorazione che in versione colore verde più luminoso perché comunque qui ho utilizzato la rivoli sfaroschi e dietro così e poi vi mostro adesso i miei orecchini rihanna che i miei colori mi piacciono molto qui l'incassonatura con la superduo solo che creati anziché utilizzare lato ho utilizzato la hobbit per le da 4 mm e superduo quindi non è che c'è molto materiali sicuramente avete tutti in casa quindi potete anche questo orecchini realizzare dietro ho fatto vedere ecco dietro un po' così poi ci sono le mie orecchini lori fatto anche questo in due colorazione questa versione verde comunque in questo orecchino ho utilizzato la incassonatura nuova quindi una volta che realizzate fatte la incassonatura seguendo questo orecchini potete fare anche tante altre cose da dietro vieni come vedete un po' bombato e anche questa come ho detto ho fatto in due colorazioni questa è la seconda colorazione che io lo veramente lo adoro che bellissimo colore veramente questi rivoli sono cristalli ma spettacolari poi c'è i miei ciondoli i miei ciondoli che ho fatto con la napina e dietro vedete meglio come l'ha fatta utilizzato demon duo e che bello quello che tra gli spazi i cipollotti che ho inserito qua sopra si vedono anche da dietro come vedete troppo bello da dietro anche questa non è difficile la napina è fatta io ma comunque che non ha grado di fare può comprare una napina e aggiungerlo la catena in acciaio bello anche questa come detto ho fatto in seconda colorazione in versione blu non ho messo la catena perché ho terminato e come vedete ho utilizzato questa coppia come decorazione questa mostra da dietro anche qui si vedono le cipollotti e poi la mia ultimissima creazione che ho fatto le mie sfere semplice semplice davvero da fare perché ho utilizzato solo roccales e cipollotto e come vedete ho utilizzato la goccia in cristallo della colore che ho utilizzato qua sopra e poi ho fatto un nodo per fermarlo qui devo fare un altro nodo sopra che ci stanno bene però può anche lasciarlo perché comunque uno che vuole toglie le utilizzate solo semplicemente così può utilizzare anche semplicemente così lì con l'ana questa sfera fatta anche in un'altra colorazione di grigio agentato è veramente carino mi piace questo è molto luminoso e poi continuando sempre a fare le mie orecchie mini mini fior tanti colorazione perché questi poi veramente piccini piccini che bambini possono utilizzare qui non serve altro solo cipollotto un po' di roccale spero di incasonare il perno versione verde poi c'è questo e poi ho fatto anche questo grigio questo grigio ad esempio può abbinare anche con la con la sfera che ci stanno bene io vi saluto e non so quando tornerò per fare nuovo tuttora perché adesso è stato iniziato e mettiamolo con la vendita di gioie lì e spero di vederci a presto un abbraccio a tutti ciao ciao